Anche dalla spazzatura può venire fuori qualcosa di buono. Basta utilizzare Genican, un dispositivo in grado di tenere sotto controllo i nostri consumi. Un lettore di codice a barre collegato tramite wifi ai nostri smartphone è in grado di riconoscere i prodotti che stiamo per buttare e aggiungerli automaticamente alla lista per la spesa. E se nella confezione non c'è un codice a barre possiamo comunicarglielo direttamente. Un nuovo modo semplice e veloce per rendere smart anche i nostri rifiuti.